Direttivo dei forestali della provincia di Siracusa, la FLAI tira le somme del comparto, resta aperto il problema delle giornate lavorative in meno e la riduzione delle qualifiche. Questa mattina il direttivo della FLAI CGL è riunito per prendere atto e decisioni sul fatto che il contratto provinciale dei lavoratori agricoli scaduto dal dicembre 2015 è in una fase di stallo e anche a causa della situazione climatica che sembra che non c'entra ma porta le aziende a perdite considerevoli non riusciamo a fare passi avanti sulla parte economica del contratto. A parte i lavoratori agricoli che sono la maggior parte dei nostri iscritti poi c'è la situazione dei forestali in cui ci sono circa 30 persone che ancora devono ricevere il pagamento dello stipendio di dicembre e siamo a fine giugno, quindi oltre 7 mesi da quando hanno lavorato e ancora non riescono a prendere lo stipendio. Nel frattempo hanno iniziato a lavorare per la stagione 2017 ad aprile e dello stipendio di aprile non se ne parla. La categoria dei forestali è una categoria enorme, tantissimi, importante, spesso però sottovalutata dalla politica. Sì, noi rappresentiamo il settore dell'agroindustria, quindi diciamo tutta la filiera agroalimentare. Per quanto riguarda i lavoratori forestali è un tema che a livello nazionale non ha la dovuta attenzione, quindi non è che non ce l'ha soltanto in Sicilia, anche a livello nazionale. Noi abbiamo grandi difficoltà perché tutte le volte che poniamo il problema di una governance, quindi innanzitutto di rinnovare un contratto che è scaduto da 5 anni, un contratto nazionale, un contratto nazionale che vogliamo rinnovare per non affrontare soltanto la parte normativa e la parte salariale, ma per affrontare la governance che c'è del settore nelle diverse regioni, perché ogni regione ha una governance diversa, quindi c'è uno spezzatino per quanto riguarda il settore forestale. Quindi vogliamo capire come ricomponiamo il settore, perché c'è un problema di forestazione conservativa, di forestazione produttiva, di forestazione sociale, quindi è un tema che va affrontato nel suo complesso.